Buon pomeriggio a tutti amici pazienti di sport e ben ritrovati su Mallorino Sport Channel Io sono Alessandro, vi do il benvenuto finalmente in questo video riguardante il ciclismo Finalmente la stagione ciclistica è riniziata a pieno regime Da due giorni a questa parte è iniziato il CBU Cycling Tour in Romania Prima corsa internazionale UCI's post lockdown In seguito inizierà la Vuelta Burgos e dal 1 di agosto inizia la stagione di altissimo livello con la Strade Bianche Che si concluderà intorno a metà novembre col termine della Vuelta in Spagna In questo video appunto vi parlerò di queste prime tre tappe della corsa 2.1 rumena Con Alvia due squadre World Tour ovvero la Bora Hansgrohe con Pascal Ackerman, Gregor Mühlberger e Patrick Conrad E la Israel Startup Nation con Rudy Barbier, Mattias Brandl e Matteo Badilatti come corridori appunto più forti Per quanto riguarda il prologo appunto avvenuto nella città di CBU proprio nel centro storico Con tantissime curve, tantissimo pavé La vittoria è andata al 29enne tedesco Nicodemus Holler della Bike ID Seconda posizione per il giovanissimo Kasper Valkowiak classe 2000 Seconda appunto a due secondi dal vincitore del CCC Development Team Quindi del vivaio della squadra World Tour polacca Terza posizione per voi Shack Sicalad, la vostra ATS Prologo che è stato molto condizionato dalle condizioni appunto del meteo I primi 20-25 corridori hanno fatto il prologo sul asciutto Mentre poi è arrivato in pratica un diluvio con vento fortissimo, pioggia molto forte Ed essendo praticamente quasi tutto il prologo interamente sul pavé La differenza è stata veramente enorme I corridori che sono passati sotto il diluvio addirittura hanno perso un minuto e mezzo, due minuti dal vincitore Tutto questo in 2,5 km Quindi veramente condizioni completamente diverse E dunque questo favorito appunto Holler, Valkowiak, Sicala e lo stesso Matteo Rotondi Che comunque ottiene un ottimo quinto posto per la Work Service Dinatec E il primo degli uomini di classifica è Patrick Conrad che chiude decimo a 15 secondi Nella tappa successiva di Bale Alac, svoltasi appunto ieri Una salita di 23 km al 6% Che ha incoronato la coppia della Bora Hasgrohe con la vittoria di Mulberger davanti a Patrick Conrad Entrambi arrivati con lo stesso tempo Terza posizione per il corridore della Israel Startup Nation Lo svizzero Matteo Badilatti, probabilmente del canton Ticino Che chiude terza a 16 secondi, ottima prova appunto dell'Elvetico Quarta posizione per il giovane francese Remier Rochat della Nippo Delco One Provence a 1 minuto e 0,4 Chiude in quinta posizione l'italiano, il mio compaesano quasi, Luca Wackerman Settima posizione per veramente l'intramontabile Davide Rebellin 49 anni e riesce ancora a chiudere in top 10 in una tappa appunto di montagna Veramente chapeau a Rebellin E in una posizione per il corridore della Work Service Raul Colombo La tappa di oggi invece è tappa quasi interamente pianeggiante Nonostante un GPM di terza categoria a circa 25 km dalla conclusione Che ha un po' spezzato il gruppo In seguito essendoci anche del vento parecchio forte La Bora Hasgrohe ha sfruttato questa occasione per tirare e aprire qualche ventaglio Dunque gruppo di testa formato solamente da una cinquantina di corridori Con tutti gli altri corridori rimasti staccati in diversi gruppetti Appunto in seguito, arrivati in seguito La vittoria è stata, è arrivata ancora una volta alla Bora Hasgrohe Con la vittoria di Pascal Ackerman che ha vinto veramente molto facilmente la volata Ha lanciato la volata, è stato il primo appunto a partire E nessuno è riuscito nemmeno a stargli dietro Seconda posizione per il francese Rudy Barbier della Israel Startup Nation Quelli che erano appunto i due grandi velocisti, tra virgolette, al via di questa corsa E un'ottima terza posizione per il neoquis della Vini Zebu Cup DM Riccardo Stacchiotti Quarta posizione per il padrone di casa, l'idolo di casa Eduard Grosu della Nippo del Coguano Provence Top 10 anche per Filippo Sfiorelli della Bardiani CSF Comunque ragazzi direi che per questo video è tutto Vi invito a lasciare un commento, mi piace iscrivervi Seguirci anche sulla nostra pagina Instagram E noi ci vediamo al prossimo video